Henry, duca di Sussex. Meglio noto come Harry, è un nobile e militare britannico. Principe e membro della famiglia reale britannica. Quinto in linea di successione al trono del Regno Unito e dei Reami del Commonwealth. Dopo il fratello e i nipoti, Kate Middleton sarebbe stata in passato una figura di riferimento per il principe Harry. Anni fa lui stesso la definì la sorella che non ho mai avuto. Purtroppo, negli ultimi anni le cose sono cambiate la stessa principessa del Galles, non è stata risparmiata dalla furia e dalle critiche che Harry ha espresso nel suo libro autobiografico dal titolo Spare. Tuttavia, è proprio a lei a cui si è rivolto per avere aiuto a ricucire i rapporti con la famiglia. Kate è comprensiva ma sostiene pienamente suo marito William. Ricordiamo che al momento è alle prese con i suoi gravi problemi di salute. Le è stato diagnosticato un cancro. E si sta sottoponendo a chemioterapia. Infatti, al momento è lontana dai suoi impegni pubblici. Kate non ha intenzione di fare da pacere. La principessa del Galles tornerà al lavoro solo quando avrà avuto il via libera dai medici. Alla notizia della sua malattia, Harry e Meghan inviarono un messaggio di sostegno. Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia. E speriamo che possano farlo in privato e in pace. Harry potrebbe vedere Kate come la chiave per sistemare almeno la relazione con suo fratello, il principe William.